Galleon International Group, un'organizzazione fondata in Sri Lanka nel 2011, la cui attività copre una vasta area come l'Europa, Medio Oriente e Asia Meridionale, è lieta di presentare un festival musicale multiculturale, il Galleon International Music Festival. Un insieme di diversità, diversi paesi, diverse culture e musica, che si incontrano su uno stesso palco. Gli obiettivi del Galleon International Music Festival sono presentare un'esperienza musicale unica, riservare il 10% degli utili per lo sviluppo degli ospedali oncologici, colmare le relazioni nel mondo degli affari internazionali ed infine fornire una grande opportunità per gli artisti emergenti, dimostrare il loro talento al mondo. Si esibiranno al Galleon International Music Festival Cianna Upuli Dancing Crew Repset Abhijit Roy and the Bollywood Dancing Cue Ride on! I want a baby tonight! Oh yeah! Zeratura Suprio Dutta e Nindra Giderli Numark Patia and Santush Galleon International Music Festival 27-28 aprile 2013 Galle Face Green, Colombo, Sri Lanka What was it? TFF